Se sei completamente digiuno di auto elettriche devi entrare nell'ottica di capire che i tempi di ricarica dipendono dalla sua batteria, dal suo caricatore, dal fatto che utilizziamo corrente alternata e continua, insomma è un po' diverso dalle auto tradizionali ma non è complicato. In questa guida partirò da un esempio con la ricarica casalinga a 2,3 kilowatt quindi 10 ampere a 230 volt, escludo la dispersione perché comunque è trascurabile nel nostro caso di esempio. Per calcolare i tempi dividiamo la capacità in kilowattora della batteria per la potenza di ricarica disponibile. Vuoi un esempio? Beh caricando a quei famosi 2,3 kilowatt, Model 3 ci impiega 32 ore per un pieno, Kona Electric ce ne impiega 28 con la sua batteria da 64 kilowattora e Leaf poco più di 17 ore. I tempi ovviamente si abbassano se usiamo un wallbox e impieghiamo una linea a maggior potenza. In questo caso con un wallbox facciamo a 3,7 kilowatt neanche troppo potente, Model 3 scende a 20 ore per il pieno, Kona Electric scende a 17 ore e Leaf impiega 11 ore per fare quel famoso pieno. Ora però usciamo da casa ma restiamo con la corrente alternata. In questo caso prendiamo una colonnina classica, si trovano spesso da 7,4 kilowatt. Model 3 si carica in circa 10 ore, Kona Electric in circa 9 ore, invece per Leaf ci vogliono poco più di 5 ore. Infine ipotizzando che stiamo facendo un viaggio magari un po' più lungo vediamo le stazioni in corrente continua. Beh in questo caso consideriamo il calcolo all'80% della batteria, non al pieno, perché sappiamo che oltre a queste percentuali per la fisica stessa delle batterie il sistema di ricarica verrebbe rallentato. Quindi se siamo in viaggio e vogliamo ottimizzare diciamo al meglio i tempi tra guida e ricarica, beh a questo punto è chiaro che è meglio fare una sosta breve in più che una in meno che però ci farebbe perdere più tempo. Ricordati poi che non tutte le auto supportano l'alta potenza, ma per farti un esempio torniamo su Model 3 con il Supercharger, il B3 l'ultima versione, la più potente, circa mezz'ora. Mentre Hyundai Kona Electric con nell'X o simili tra i 50 e i 100 kilowatt ci mette poco meno di un'ora. Quanto tempo ci metto a questo punto per ricaricare X chilometri? Questa volta ti serve il consumo medio dell'auto. Abbiamo preso in questa rubrica il dato di 15 kilowatt ogni 100 chilometri come media generica. Il calcolo è semplice, chilometri da percorrere per consumo medio diviso velocità di ricarica che abbiamo a disposizione. Possiamo poi calcolare quanti chilometri carichiamo in un determinato numero di ore. ipotizziamo che io metta l'auto in carica alle 10 di sera e la tolga alle 8 del giorno dopo. La formula da utilizzare è la seguente. Tempo di ricarica a disposizione per potenza di ricarica diviso consumo medio chiaramente. Anche caricando lentamente da casa è chiaro che in quelle 10 ore a 2,3 kilowatt recuperiamo circa 150 chilometri, una media sicuramente interessante e dati che per la realtà sono più che sufficienti. Per i costi di questi chilometri elettrici guarda il video precedente. Bene, con questo spero di averti chiarito eventuali dubbi sui tempi di ricarica. Se ne hai altri fammelo sapere nei commenti o scrivi un messaggio sui nostri social e nell'articolo ovviamente ci sono ulteriori esempi oltre a diverse informazioni aggiuntive. Alla prossima puntata, ciao!